Da lunedì non si avevano notizie di una quindicenne indiana scomparsa dalla Valtidone. L'ultima a vederla era stata una vicina di casa che con lei aveva fatto il viaggio in corriera dalla Valtidone fino a piazza Cittadella a Piacenza. La giovane aveva lasciato un biglietto nel suo diario spiegando i motivi dell'allontanamento. Tanto un giorno mi farete sposare chi volete voi quindi me ne vado. Il padre aveva immediatamente contattato i carabinieri ai quali aveva dichiarato che nessuno nella sua famiglia avrebbe imposto alla giovane il matrimonio combinato. Ieri pomeriggio la quindicenne ha inviato un sms da una cabina pubblica per tranquillizzare i suoi genitori. Non cercate mi sto bene. La cabina è stata rintracciata dai carabinieri e individuata a Firenze. Tramite i suoi contatti facebook gli inquirenti sono risaliti a chi poteva ospitare la ragazza. Questa mattina la risoluzione positiva del caso. La giovane è stata ritrovata alla stazione fiorentina di Santa Maria Novella. La famiglia originaria del Punjab nel nord dell'India è pienamente integrata nella realtà sociale piacentina dove si è inserita nel 1997. Dal 2001 il padre lavora in Valtidone in una fabbrica come operaio e ha acquistato una casa in campagna dove vive con la moglie, il figlio di 10 anni e la ragazza di 15. È stato il padre insieme ai carabinieri ad andare a riprendere la giovane a Firenze.